Ciao a tutti, allora oggi un tutorial velocissimo ma utilissimo, allora non so se vi è capitato anche a voi io quando guardo le storie su Instagram spesso ci sono un sacco di scritte, durano 2-3 secondi non riesco a capire che cazzo c'è scritto, faccio altro di andare avanti e indietro per vedere di leggere allora c'è un modo banalissimo per mettere le storie in pausa, basta tenere premuto il dito sopra la storia a quel punto la musica si ferma, quello che c'è si ferma e avete tutto il tempo del mondo per vedere e leggere quello che c'è scritto, spero che questo consiglio vi sia utile e adesso vedete un esempio che ho fatto registrando lo schermo allora andiamo sulle storie, ecco che si muove, ho messo il dito e vedete che si è fermato adesso l'ho levato e riparte, altra cosa, ho rimesso il dito, tutto fermo e poi riparte bene, buon tutto, vi ringrazio per avermi visto e se volete fare subscribe mi fate felice ciao 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 a tutti, allora oggi vi racconterò vi è capitato guardate fu quello più divertente che non è accerda chi non è vero vi�ete le abbiamo